Grazie 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 Vi vediamo alla prossima Speriamo al prossimo anno Ringraziamo lo staff della prima goccia Che ci ha dato la possibilità di suonare Per chi fosse interessato Noi abbiamo anche un cd in vendita che si trova lì al balcone del Mixer ora ringraziamo anche i ragazzi del Mixer delle luci buonanotte a tutti, grazie buonanotte, grazie grazie ciao